Per gli appassionati di aerei, ricordo che esiste la meravigliosa playlist Aerei con oltre 70 video, fra le traduzioni come quella che segue o le ricerche personali. Un saluto a tutti e tutte e buona giornata. Ringrazio il caro amico brasiliano Nosor Lopez che ha inviato il link da controllare e ho verificato come legittimo. Si tratta del volo di un paio di giorni fa da Tel Aviv a San Paolo che ha fatto uno scalo a Madrid. Abbiamo esaminato la rotta di questo volo che però non ha alcun senso sul globo a senso solo su una mappa piana. Esamineremo questo volo in dettaglio. Noi sappiamo che c'è stato un tizio che conosciamo che ha detto che la distanza più breve tra due punti è una linea retta e possiamo chiamare questi due punti A, O, B, O, 1 e 2. Ma la linea retta è sempre la distanza più breve tra questi due punti. Lo stesso vale quando voli da Tel Aviv a San Paolo. La linea retta sarebbe il punto più breve tra queste due città. Ma se guardiamo il globo non succede mai. Sul globo più e più volte, su un sacco di voli che ho mappato con la mappa glison rispetto alla glison avvolta attorno al globo, ha sempre senso sulla mappa glison della terra piana. Non ha alcun senso sul globo. La stessa cosa è successa ancora una volta con questo volo da Tel Aviv a Madrid. Qui ho confrontato entrambe le rotte di volo sulla mappa glison e su quella del globo. Da Tel Aviv a San Paolo con una fermata a Madrid diventa quasi una linea retta. Mentre se avessero fatto uno scalo in Nord Africa sarebbe stata la linea retta più perfetta. Ma sul globo avrebbero dovuto volare sopra l'Africa centrale, fare una sosta in Africa centrale e poi andare fino a San Paolo. Se avessero dovuto fermarsi per vera necessità. Vedete che non è il caso del globo, non ha senso. Un grosso fallimento per il globo e un'altra vittoria per la mappa glison. Adesso andiamo a vedere un'animazione, una veloce animazione che mostra come è avvenuto questo volo sul globo. Che comunque non ha alcun senso. Vediamo il volo che si dirige a Nord-Ovest, vola sopra l'Italia del Sud e se lo confrontiamo sulla mappa glison ha perfettamente senso. Arriva a Madrid e poi vola a Sud-Ovest verso il Brasile. Quindi ha dovuto volare prima a Nord-Ovest e poi verso Sud-Ovest anziché volare direttamente da Tel Aviv con magari uno scalo in Africa centrale. Ma se confrontiamo questo volo sulla mappa glison ha perfettamente senso. È quasi una linea retta, come ha detto Archimede, dove la distanza più breve tra due punti è sempre una retta. E sulla mappa glison scopriamo che ancora una volta questo è il nostro caso. Un'altra vittoria per la mappa glison è un grosso fallimento per il globo. A disposizione avete il fantastico e completo indice alfabetico attraverso il sito tinelli.eu Sempre a disposizione in bianco e nero il libro Il Risveglio ha colori solo nella versione ebook.